Terminato il corso degli OIB, gli organismi indipendenti di valutazione, presso la sede dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord. Il corso di specializzazione, organizzato in collaborazione con Stampa Consulting, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti. Il corso di specializzazione degli OIB è uno strumento attraverso cui la pubblica amministrazione riuscirà a misurare la performance e a valutare i risultati che dovrà raggiungere nel mandato elettorale. Un elemento fondamentale per le amministrazioni locali perché permetterà di avere un grande risparmio economico e un ottimo risultato dal punto di vista lavorativo. È terminato il primo corso sulla specializzazione degli organismi indipendenti di valutazione. Con grande soddisfazione abbiamo svolto queste otto lezioni molto interessanti e abbiamo consegnato gli attestati dove ogni partecipante ha raggiunto i 40 crediti previsti dal Ministero necessari per il mantenimento dell'iscrizione e dell'elenco degli OIV. L'OIV ormai che è l'organismo indipendente di valutazione degli enti locali è un organismo fondamentale a grande supporto delle amministrazioni, a supporto delle attività, delle performance e quindi del benessere organizzativo di ogni ente e quindi anche del cittadino di riflesso. Nell'applicazione di quello che è il programma di formazione continua che l'Ordine predispone per i propri iscritti ha colto l'occasione al volo di formare quella parte degli iscritti interessati a quelle che sono le attività riguardanti la pubblica amministrazione, conseguire quella formazione necessaria per l'iscrizione all'elenco quale organismo intermediario di valutazione e avere l'opportunità eventualmente di proporsi ai soggetti pubblici quali appunto professionisti iscritti all'elenco per gli organismi che nell'ambito della pubblica amministrazione sono chiamati a valutare le performance dei dipendenti della pubblica amministrazione. Noi ormai viviamo nella nostra società un reticolo dei controlli e quello dell'OIV è un altro tipo di controllo che prevede non soltanto la possibilità di applicare concetti che sono legati al mestiere di dottore commercialista ma anche per esempio aspetti legati al controllo organizzativo, al controllo dei sistemi pubblici, come si sviluppano in termini di risultati che possono raggiungere, cioè applicare sempre di più il concetto che il controllo deve partire dagli obiettivi. Questo corso conferma ancora una volta l'importante relazione che si deve stabilire tra le università e gli ordini, in particolare tra l'ordine qui di Napoli Nord e l'Università Van Vitelli Economia, Dipartimento Economia Capace da tempo una relazione di collaborazione forte e intensa e questo corso conferma anche questo interesse reciproco a sviluppare quelle che sono delle competenze ormai sempre aggiuntive per la figura professionale del dottore commercialista che deve costruirsi una combinazione di capacità e competenze che gli consentono di essere flessibile ma anche di poter declinare la propria professionalità in contesti molto diversi come possono essere quelle delle pubbliche amministrazioni che richiedono il ruolo di OIV. Questo è stato il primo esperimento, l'ho ribadito anche la volta precedente. Abbiamo avuto la capacità, la fortuna ma soprattutto la capacità di essere tra le poche società private e le altre sono università, ad essere presenti negli organismi accreditati dal Ministro della Funzione Pubblica per questo tipo di attività sugli OIV. Partirà a giugno una seconda edizione sempre qui a Napoli Nord e l'iniziativa si sta anche allargando ad altri ordini professionali. È stata un'iniziativa innovativa sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista dell'approccio perché abbiamo nella fase di programmazione didattica definito una serie di contenuti che fossero in linea con le aspettative normative su che disciplina il sistema di misurazione della performance e soprattutto abbiamo dato un'indicazione in termini di sviluppo di quello che può essere la professione di dottore commercialista lungo traiettorie che non erano state battute precedentemente.